che trasportiamo solo ferrari perché le ferrari sono un mito e queste dove le hanno rubate le ferrari non le ha mai rubate nessuno le ferrari sono di tutti sono patrimonio dell'umanità io con le prostitute non ci sono mai andato nella mia vita tutti così dicono nessuno mai andato al prossimo vuole sapere come le chiamo io qua nipotine persone da noi parliamo sempre dei nipotine o tutto noni